chi? come lo ha visto? bello! la tubercolosi avanza non dite sembra il mio professore di italiano, sai? ti gira! no! coccato a giret! coccato a giret! quale? qui c'ho detto tu sbaglio vai! andiamo a prendere anche lui vabbè, è già dritto no, Rosic non so, non so non so non so non so perché ho doppiato qualcosa? no, non ho doppiato qualcosa, ok io l'ho scusato io l'ho scusato io l'ho scusato un solo corpo un solo spirito io non ho capito che ha detto ma fammi timbre in italiano come fanno quelli della ferrarica almeno forza catania ok, ok, ok ok, Alessandro hai due facili sul pettello chi? pettelle, non pettelle